adriano sono venuto a trovare il disperato di erminio qua mannaccia la maraglia l'hanno piazzato male l'hanno piazzato ma guarda l'hanno nascosto non vogliono disprependerà queste parti sti maleducati mi hanno messo male adriano questo metodo del tappo devo dire che non è male allora ci troviamo a fondi questo è un video a uno dei miei colleghi che fa lo spray paint art stai facendo un quadro favoloso qua come vedete a mano a mano lo vediamo come si sviluppa un saluto caro anche a tutti voi che ci seguite nel canale un saluto del al gruppo la net spray art a fra poco a 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 E' un po' il primo Allora questo è il risultato finale come vedete a me mi era venuta una grande fame quindi ero corso andare a comprare una pizza ma al mio ritorno siccome Erminio è stato velocissimo a terminare questo paint al mio ritorno era già terminato come potete vedere favoloso un bellissimo spray paint fatto di Erminio Nardone molto molto bello dopodiché Erminio mi ha gentilmente invitato ad eseguire anche io un paint eccolo qua Ragazzi il maestro sposito si cimenterà adesso in un paint ancora bianco ma tra poco la magia di Mauro avrà inizio buona visione a tutti Vediamo come in maniera magistrale agita le bombolette il maestro Grazie a tutti E' uno sotto se è termogliato Il piatto della pappa del bimbo Spero che taglierai l'audio quando monterai il video perché sto dicendo un monte di cazzate Vediamo come in maniera 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 ragazzi mettete la maschera e si 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 Grazie per la visione 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 È arrivata una chiamata, si è anche rotto il video Grazie per la visione Ciao a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Eccolo qui Arminio Grazie, grazie Mauro E eccomi qua sto io Ciao Alla prossima